Il paesaggio pugliese si è affermato a livello nazionale e internazionale per le proprie tipicità. Il Parco delle Gravine si innesta in questo ambito, quindi elemento da valorizzare proprio per potenziare l'attrattività dei comuni che ne fanno parte. Il mio intervento però ha voluto mettere in evidenza dei principi di riqualificazione e valorizzazione del territorio e anche di possibile sviluppo locale, partendo proprio da un esempio, da un progetto virtuoso che è già partito da qualche anno, che è della Green Road, in cui già quattro comuni del Parco delle Gravine sono già all'interno della Green Road, è un progetto open in cui molti altri comuni possono aderire ma che comunque risulta essere vincente perché vuole per l'appunto valorizzare il territorio, costruire un prodotto sostenibile che abbia l'obiettivo appunto di consentire lo sviluppo locale mettendo in rete, in sistema, quelli che sono gli elementi proprio forti del nostro paesaggio, del nostro territorio e della nostra storia e cultura.